Che cazzo dice questa? Che cazzo dice? Che cazzo dice? Questa ha fatto molti assunti, ha fatto credere l'essa che curva, ha fatto credere a milioni di persone in antica Roma che questo Cristo era morto, sepolto, rinato e era ovunque la teoria di l'azienda. E c'è sempre, era un coinquilino di là, dove lei con lui non ci ha mai fatto il tempo, non mi ha mai fatto il tempo, mai. Il bambino non è mai stato molto giusto, opera dello spirito sano, ma lasciamo la parola di Sacco, il proprietario di questo fabuloso, ottimo, mi ha detto non darla mai a nessuno. E io ho detto come fai? E no, la tua virginità la devi dare solo a chi paga, io non ho mai dato nessuno ricco. Che cazzo dice questa? Che cazzo dice? Che cazzo dice? Quindi io non ho la pietra cattolica, perché è sempre successo. E sono di sesso dietro le quinte, quindi tanto di caffè. Sono di sesso successo, il fatto con l'acqua. Perché si come se dipende a se tornare. Sono di sesso stesso. Adesso vado a rehab per riconciliarmi con il fatto di vino. Vado a meggiungo cuore. Non so, gli successo si pigiorano nella scorgizia, no? Perché i veri valori sono la povertà, la città e l'uomo. E lui è pittà. Ma meno male. Che cazzo dice questa? Che cazzo dice? Che cazzo dice? Tre montane. Mille dei soldi, mille dei soldi. Tanti, no? Debiti, gioco. No, debiti, debiti, soldi. C'è quanto che lui mi scrivono a lettero, come dei soldi. Milatorio, la domanda a cazzo a prendere un mille. Ciao, mare. Ah, mare. No, parla sempre di me. Mai dal tuo consiglio. Una tua vocazione, la tua. Ti vuole tanto bene. Che? Io e Fabricio, ci facciamo come... Come... Compagni? No. Stringi la mano. Ma ancora non è anche... Non è anche... Non è anche... Non è visto sui giornali che non ha neanche le parti basse e forti, no? Però tutto è evidente, chi lo dimostra? Ho fatto la granzetta, il periodo. Che cazzo dice questa? Che cazzo dice? Che cazzo dice? Alla mia antichestora al servizio delle banche. E della lotta contro il signoraggio bancario. E l'opportunismo dei grandi di sfruttare la povera gente e i contatti sovraumali. Come ero bella, come ero bella. Non mi ricorda tanto. Stavo con la pancia piena di... Stavo con tutte le striature. Silvi? Silvio. Scrivo un libro su Silvio Berlusconi.